Buongiorno, benvenuti a questa diretta del 16 marzo. Allora, che cosa è successo? In un paese normale, in un paese normale, in cui si vuole dare degli aiuti alle famiglie, si fa un decreto e il decreto poi si legge sui giornali e sui siti specialistici. Non lo potrete fare, non lo potrete fare, non lo potrete fare perché oggi c'è la scadenza per chiunque di voi abbia una partita IVA, cazzo, per chiunque di voi sia un autonomo, per chiunque di voi sia una piccola impresa, un'azienda, una grande impresa, oggi è il giorno del pagamento dell'IVA che hanno detto che vi avrebbero rimandato. Secondo voi avete il decreto con cui sapete quando e come rimandarlo? No, perché voi siete del merde e voi siete persone che devono stare zitte a casa. Il massimo che potete fare, sorridendo come dei perfetti cretini e cantare l'inno d'Italia o Celentano o il mandolino con il partigiano in mano, questo potete fare, il resto zitti, muti e sorridere. Oggi scadono, ci sono le scadenze fiscali ma non c'è il decreto ancora perché ieri sera hanno litigato, hanno litigato. Così è il retroscena del tempo di Bekis che dice che non si sono messi d'accordo sul decreto fiscale di cui c'è qualche dettaglio che fra poco vi racconterò che oggi ho letto sui giornali. Ma nel frattempo, ovviamente, il nostro Winston Churchill, l'uomo dell'ora più buia, quello che non riesce a fare un decreto neanche alle undici e mezza di sera, fa un'intervista al Corriere della Sera. E voi dite, beh, ci spiegherà tutto perché una cosa è una dichiarazione come fa lui televisiva, una cosa, una bella intervista al Corriere della Sera quando ci sono i giornalisti che gli fumano e che lo metteranno. Io so perfettamente che noi giornalisti quando abbiamo il Presidente del Consiglio abbiamo, come posso dire, un'aria ristretta. Però il giornalista dovrebbe fare toc toc! Casalino, guarda che tu eri il mutanda del grande fratello, io sono un giornalista del Corriere della Sera, le domande le voglio fare io, non mi spieghi tu cosa chiedo al Presidente del Consiglio, non è la gatta morta, non è il panettiere, sono il giornalista del Corriere della Sera, Casalino, sono io che faccio le domande, toc toc! Casalino! E evidentemente invece il toc toc l'ha fatto Casalino al giornalista del Corriere della Sera perché nell'intervista del Presidente del Consiglio non c'è scritto esclusamente nulla. Questo può succedere, guardate, non è che io lo escludo, i giornalisti spesso sono vittime dell'importanza dei loro interlocutori, ma in questo momento buio io vi sarei aspettato qualche notizia, qualche domanda, non bisogna fare polemiche. Allora, il Presidente del Consiglio in questo momento dice che non bisogna fare polemiche e ci sono una parte degli italiani che sono chiusi a casa, che non possono lavorare, che non possono fare tassisti, centurioni, non voglio fare la lista di Salvini, non possono fare un cazzo, però possono andare a comprare, andare a fare la spesa, dove gli stessi cittadini, quelli che lavorano e che stanno dietro alle casse non riescono ad avere la mascherina nonostante incontrino centinaia di persone perché il governo non le ha fatte. Queste stesse persone non sanno oggi, nonostante ci siano le le tasse da pagare, se devono pagarle o non pagarle, ma il Presidente del Consiglio cosa dice? Non è il momento delle polemiche. Ma pensa un po' tu, io pensavo che il momento delle polemiche non fosse mai contro Casalino e Conte, mai, non si fa polemica, ma aburriamo proprio il diritto di parola, io non so per quale motivo, anzi lo so perché su YouTube ad esempio non vengono accettati, diciamo, spot sulle mie zuppe, ma a me ne fotte nulla degli spot, mi importa di parlare da voi, perché prima o poi ci restringeranno, anzi io sono contento che Facebook e Instagram mi danno ancora la libertà di dire quello che cavolo mi pare e lo riesco a mettere sul mio sito. Quando mi annulleranno per le mie critiche su Facebook e Instagram, ma non penso e non mi auguro, c'è sempre il sito nicolaporro.it, piccolo messaggio, una cosa. Allora, questo governo non vuole polemiche, porca troia, non voglio polemiche, certo non voglio polemiche, ma almeno qualche notizia, qualche domanda la possiamo fare, per esempio possiamo chiedere a un governo normale se oggi io devo pagare le tasse, mi spieghi se le devo pagare o non le devo pagare? No, ovviamente non si può chiedere perché questo è polemico, evidentemente. Poi l'altra cosa che mi piace è la domanda sull'Europa, l'Europa ci fa tutto un pippozzo sull'Europa che conta, quanto ci ha aiutato l'Europa, Ursula von der Leyen, io dico che qua purtroppo non ci sono i pusher che hanno perso il lavoro anche loro, ma forse arrivano a Palazzo Chici, perché non è che bisogna pensare che questa è Europa che ci aiuti, io non voglio neanche tanti grandi aiuti, ma bisogna ragionare in maniera logica e lo fa non Babbo Natale, non un pericoloso sovranista, sapete chi lo fa? Stefano Folli, un signore repubblicano che scrive per la Repubblica, il Stefano Folli oggi sulla Repubblica dice, toc toc, Germania dei miei coglioni, dice Stefano Folli, ovviamente in maniera più laica perché Stefano Folli non ha la cafonaggine di noi di destra, dice, ma scusatemi mi spiegate una cosa, ma perché la Germania in un attimo ha chiuso le frontiere, in un attimo, in un attimo ha chiuso tutte le frontiere, ha abolito Schengen, cioè mentre noi siamo qua che pensiamo l'Europa di là, l'Europa di là, gli andiamo a chiedere i soldi, facciamo, la Lagarde ci spiega che noi siamo delle pippe, eccetera, la Germania se ne è sbattuta, ha chiuso tutte le frontiere, noi le teniamo aperte per tutta l'Europa perché dobbiamo avere i porti aperti mentre loro ce li tengono qua dentro, loro quando c'è l'emergenza virus che ovviamente riguarderà tutta l'Europa e non sarà confinata dalle frontiere perché come le merci e come le armi vengono sorpassate le frontiere anche dai virus, loro chiudono le frontiere e tant'è che oggi il titolo di Repubblica di Folli c'era una volta l'Europa, mentre invece quell'altro al Corriere della Sera consegna questa bellissima frase di europeismo, spererà di fare come Gentiloni, forse il commissario europeo nei prossimi anni, perché sono tutti meriti poi che questo piccolo club verdurin di cazzoni europei si riconoscono l'uno con l'altro, però non si può criticare perché oggi non bisogna, è folle fare polemiche, oggi è folle fare polemiche, non si può discutere, uno non può alzare il ditino, scusate siamo veramente sicuri che stiamo facendo la cosa giusta, siamo il paese al mondo con più morti, siamo il paese al mondo con più contagi, siamo il paese al mondo con più casino nelle terapie intensive, al mondo, possiamo alzare il ditino e dire forse c'è un problema, forse c'è un problema se le mascherine, quelle che avete comprato della protezione civile, 250 mascherine sono, e ve le farò vedere più tardi sul mio sito perché le mette gallera sono degli stracci con cui si puliscono i cessi e non si difendono dal virus i nostri medici, cosa altro succede sui giornali? E qua siamo solo all'inizio, dice Conte, beh certo se questi sono quelli che ce la gestiscono, la vicenda dice Bertolaso non lo conosco, certo non lo conosci, lo conosce quelli che ha salvato l'Aquila, ma comunque nel frattempo fantastico, il tempo scopre che l'ex ospedale Forlanini è stato dato alle ONG, perché noi alle ONG che portano un po' di migranti italiani, oggi non c'è più il problema dei migranti ovviamente, le ONG, i medici senza frontiere stanno tutti là nel mare o forse stanno lì negli ospedali ad aiutare italiani, no, si sono presi il Forlanini perché vuole essere il loro tempio. Vado avanti, focolaio in Irpinia, e questi sono cazzi ragazzi, perché il sistema sanitario campano sarà buono certo, ma non è così efficiente come quello lombardo che è già al collasso, allora se il focolaio arriva in Irpinia come titola il mattino di oggi e tanti giornali locali, sono cavoli neri, cavoli neri, e voi pensate di risolvere sta roba con Conte che non riesce a fare ancora il decreto? Comunque, è fantastico oggi Libero che titola Protezione in Civile. Il problema della protezione civile è che ti accorgi che non funziona esattamente nel momento in cui ti accorgi che esiste, perché prima non ti serve, ma quando ti serve, allora lì ti accorgi che non funziona e la protezione in Civile è il titolo più giusto che oggi fa il Libero. Abbiamo messo un responsabile dei numeri alla protezione civile che l'unica cosa che sa fare è rispondere alle polemiche, che è meglio che non risponda, chi se ne frega, come non ha mai risposto Bertolaso, e sa dare i numeri dei morti, tra l'altro con un asterisco, perché non è detto che siano tutti morti da coronavirus, per il coronavirus. Comunque incredibile, Brambilla straordinario, oggi continua la sua battaglia sul quotidiano nazionale, sull'unica cosa seria che si dovrebbe fare oggi, cioè l'ospedale straordinario alla fiera di Milano, ho sentito decine di imprenditori che ci vogliono mettere i soldi, che hanno già trovato i ventilatori, hanno trovato i letti, la fiera di Milano con il suo ministro delegato del Presidente è in grado di fare l'ospedale, ma siamo ancora qua che tergiversiamo, quando arriverà il virus anche a Milano, ora a Brescia, a Bergamo, sarà troppo tardi, tanto che volete che sia un giorno più, un giorno no, abbiamo Winston Churchill che guida l'Italia nel momento più buio. Decreto fiscale, guardate, è una barzelletta, perché vi dico soltanto una cosa, secondo le bozze è previsto che ci sia un rinvio delle tasse di oggi di quattro giorni per alcuni, quattro giorni, ma che ci sta a prendere il culo, quattro giorni, io le pago, comunque oggi me ne sbatto le balle e faccio prima, e di 45 giorni per gli altri, ma come dice giustamente Capezzone, ci avete fatto 120 articoli, che peraltro non sono stati ancora approvati, per rimandare fra due mesi le tasse dove si concentreranno le imposte di tutti quanti, ma il certurione romano che prende i soldi qua fuori, il tassista che prende i soldi con l'NCC attraverso i suoi lavoretti, l'idraulico, la maestra elementare che fa le ripetizioni, cioè il mondo normale di questo paese che è fatto un po' di sommerso, un po' di grigio, un po' di bianco, un po' di autonomo, un po' di partita IVA, un po' di arrangiamento, ma secondo voi fra un mese e mezzo avrà i soldi per pagare le imposte su redditi che non ha mai avuto, porca puttana, nel frattempo i 50 euro per andare a fare la spesa chi glieli dà? Glieli dà qualcuno o secondo voi con questa genialata del chiusi tutti a casa non gliele dà nessuno? Nel frattempo trattiamo Boris Johnson come fosse l'ultimo dei cretini, un po' come trattavamo quelli che volevano la Brexit come l'ultima delle possibilità per l'Inghilterra, vedremo alla fine chi avrà ragione, io non lo so, il dubbio è la certezza di un liberale, però voglio dire francamente questo attacco a Boris Johnson come se fosse l'Inghilterra il paese più coglione del mondo, l'ho visto anche quando si diceva che la Brexit fosse stata la più follia del mondo, vedremo alla fine chi con i suoi morti come l'Italia o con i suoi feriti e comunque con i 10 milioni di possibili disoccupati, cosa che ha scritto ieri Bisignani che ci troveremo tra mesi, Capezzone ovviamente ridicolizza un decreto che ancora non c'è, ma c'è un'altra cosa fantastica, ve la voglio dire, quindi rinviano di 4 giorni secondo le bozze o di 45 giorni il pagamento delle imposte, ma sapete cosa hanno inserito nel decreto fiscale? Non lo so se poi lo faranno alla fine perché stamattina lo decideranno, aumentano di 2 anni la possibilità dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, questi bisognerebbe prenderli a calci nel culo, io dico che sono dei cialtroni, sono peggio dei cialtroni, questi sono delle merde, sono delle merde, cioè se aumentano di 2 anni gli accertamenti bisogna prendere per il collotto chiunque ha pensato una norma di questo tipo e dire fate schifo, perché l'unica cosa che sapete fare è la polizia fiscale, anche durante l'emergenza, è una roba che ti fa venire il sangue al cervello, Daily Mail dice come si sta comportando l'Inghilterra, io dico su questo a differenza del 90% degli osservatori, stiamo a vedere perché non è assolutamente detto che abbiamo ragione noi, ma potrebbero avere ragione loro, dicono una cosa ragionevole gli inglesi, dicono se avete più di 70 anni, quarantena, state a casa, perché su di voi c'è un vero grande problema di ospedalizzazione, chiaro? Va bene? Qua qualcuno dice che non sono fatte le giuste terapie antivirali per il numero dei morti, guardate il numero dei morti in Italia è superiore al resto del mondo per una banalità purtroppo, e cioè lo leggevo in una ricerca scientifica proprio stamattina, perché il numero dei vecchi in Italia è molto superiore ad esempio al ratio dei vecchi in, come si chiama, in Corea del Sud. E poi c'è una seconda aggravante che deriva dal fatto che siccome molti in Italia non fanno il tampone, ed è anche giusto non farlo, noi abbiamo un numero dei morti alto e un numero degli infettati basso, ma se tutti facessero il tampone ci sarebbero molti più infettati e avremo quindi un rapporto infettati-morti molto più simile a quello del resto del mondo. Chiaro? Questo è il concetto. Gaia Cesare oggi sul giornale ci racconta come si comportano tutti gli altri paesi, sostanzialmente la Spagna fa come l'Italia, l'Inghilterra è il polo opposto, la Francia fa le cose a metà, anche perché ieri fanno le lezioni comunali e devo dire che non è proprio una di quelle robe che uno si immagina rispetto alla chiusura dei diritti civili che invece l'Italia ha fatto nei confronti di tutti. Beh, stupendo Carla Sarkozy, la signora Sarkozy, quella che ha dimenticato di essere italiana, dimentica ogni tanto anche il buonsenso. Bonjour Stronses, disse una volta Tony Damascelli in un pezzo che fece infuriare Sarkozy all'epoca la Presidente del Consiglio chiamerò Berlusconi, si incazzò con il giornale che era il giornale di Berlusconi, ma una che alle sfilate il 5-6 marzo si mette a fare i finti starnuti per fare la spiritosa, come minimo non è spiritosa, come minimo non è spiritosa, è una cretina, semplicemente una cretina è una che fa una cosa di questo tipo e oggi se la ricucina Damascelli sul giornale. La Fed taglia i tassi di interesse ma serve a niente, non solo taglia i tassi di interesse, comprerà 700 miliardi di obbligazioni americane, sia pubbliche sia private, ma i titoli stanno crollando in borsa stamattina all'8%, ma è banale il motivo per il quale crollano le società e che non stiamo lavorando, il mondo è fermo, il mondo è fermo. Oggi io scrivo sul giornale questa ricerca di Goldman Sachs che sostiene che questa sia molto più simile alla crisi del 9-11 dell'11 settembre rispetto a quella del 2008, speriamo abbiano ragione loro, ma quello che stiamo vedendo sui mercati è da crisi sistemica, anche se Goldman Sachs nega, questo lo scrivo io sul giornale, l'ultima ve la devo lasciare, perché ogni occasione è buona per dire una bella stronzata ambientalista e questa oggi ce la regala come al solito Mario Tozzi sulla stampa, in prima pagina della stampa, beh lo sapete qual è il titolo? Ve lo dico, le foreste devastate portano le pandemie! Ecco, le foreste devastate portano le pandemie! Questo è il motivo per il quale è arrivata la pandemia. Quando tu cerchi di raccontare la realtà con il buco della serratua, del tuo pregiudizio ideologico e religioso che è diventato l'ambientalismo. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it perché questa storia delle mascherine non può passare, cioè se ti danno 250.000 mascherine che non funzionano nella protezione civile, tu prendi il presidente della protezione civile, il responsabile della protezione civile e gli dici, presidente non ti do un calcio del sedere perché sono gentile, ma ti mando via e scappi più veloce della luce, porca puttana! Ciao! 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 Ciao!